La via della conoscenza La via della conoscenza attraverso Attilio M. vocedellacuiete.vagliano.com Riprendiamo ora accennando ad un processo che l'uomo mette in atto abitualmente e che poi dà senso a come lui interpreta la funzione della memoria Fin da bambino l'uomo rielabora sulle elaborazioni cioè rielabora un'informazione che all'inizio gli sembrava essere completa scoprendone l'incompletezza poiché ha come caratteristica naturale la capacità di riconoscersi nel mondo di percepirsi come un insieme e di riconoscere l'alterità e quindi rielaborando le sue elaborazioni incomincia anche a connotare attraverso similitudini gli altri umani e tutto ciò che è altro da sé come delle globalità che possono modificarsi perché ogni globalità si sfaccetta in molteplici caratteristiche e in svariati comportamenti alcuni di questi catalogati come penalizzanti per chi è in relazione con lui alcuni come premianti ed alcuni come appaganti l'uomo impara anche che l'altro rappresenta una sorpresa poiché può mutare nella sua globalità lui fa progressivamente esperienza attraverso la raccolta di informazioni archiviate nella memoria che l'alterità in genere ha la possibilità della mutevolezza ripresentandosi di volta in volta come una globalità diversa da prima cioè mostrando aspetti non noti questo fa nascere in lui come atteggiamento di fondo una cautela indirizzandolo anche ad agire di conseguenza pertanto l'uomo introduce la cautela che è la prima difesa alla possibilità che emerga una globalità in genere sotto forma di oggetto, di animale o di persona che ad un tratto mostri quell'aspetto non conosciuto che possa metterlo in difficoltà ma è proprio la globalità altrui in una prima fase di apprendimento ad incuriosire il bambino prima che lui comprenda di conoscere solo una parte delle possibilità insite in quella forma vivente davanti a lui questo perché le esperienze che l'uomo accumula nella memoria fanno parte di un processo che si articola nel corso del tempo che poi lui suddivide e riordina definendo e ridefinendo la globalità dell'altro diversamente il bambino in presenza di un'alterità che si modifica si sente inizialmente sorpreso ed anche spinto dalla curiosità solo successivamente dalla cautela che nel tempo diventerà difesa o sfiducia ed altre volte anche sfida